Al lavoro per arrivare al progetto esecutivo entro le scadenze per poter usufruire del finanziamento di 2 milioni e mezzo legato al PNRR per la messa in sicurezza delle strade e ponti del territorio comunale. Mesola è infatti stato inserito tra i comuni che potranno fruire dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi stiamo progettando e presentando le schede del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza così come stanno facendo tutti i comuni della provincia di Ferrara sotto un'unica regia che è il Focus Ferrara. Nel breve dovremo anche partecipare agli incontri che la provincia organizza e noi stiamo predisponendo le schede che vanno incontro ai quattro temi principali del PNRR. Rispetto ai progetti ce n'è qualcuno sui quali puntate? Alcuni abbiamo puntato sicuramente sulla sistemazione del castello della Mesola, l'edilizia, che tiene conto di una sistemazione della delizia stessa ma anche di un ampliamento dedicato al parco e quindi anche una ciclo pedonale che unisce a Torre dell'Abbate e quindi un allargamento delle zone uvide del Torre dell'Abbate e quindi anche andare incontro all'ambiente. E la situazione ultima è quella di verificare e di codificare le mura che cingevano una volta il castello della Mesola. Diversi lavori da inserire nell'elenco del territorio di Mesola anche di fuori dai fondi legati al PNRR. Accanto ai progetti del PNRR abbiamo avuto anche soddisfazione dal Ministero degli Interni che ci ha finanziato due milioni e mezzo di un progetto che sistemi i ponti e strade della bonifica. E a questo proposito stiamo cercando di fare una convenzione con il Consorzio di Bonifica proprio per venire incontro alle esigenze loro e nostre del nostro territorio. E infine abbiamo avuto proprio comunicazione veneto il scorso di un altro e ulteriore finanziamento da parte sempre del Ministero per l'ampliamento dell'asilo nido che metterà in sicurezza quell'immobile e anche come risparmio energetico e un suo ampliamento in modo che si vada a completare quel percorso scolastico che come Comune di Meso abbiamo iniziato e che vorremmo continuare e concludere. Grazie 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 Grazie